stasera parliamo di meccanica di mercato e andiamo ad aprire questo filone che andrà molto nello specifico e che vedrà nella prossima lezione le logiche di meccanica di order flow quindi i processi e le dinamiche che vanno a governare i movimenti e l'esecuzione degli ordini nei mercati finanziari ok quindi le relazioni che ci sono fra buyers e sellers le logiche di posizionamento degli ordini le logiche di impatto di questi ordini le logiche di priorità insomma andremo molto nello specifico ragazzi però prima di fare quella lezione ho fatto questa qua che è propedeutica che vi serve per capire come funzionano realmente i mercati finanziari in termini di infrastruttura ok allora partiamo un attimo con la logica di infrastruttura del forex ora io ho ricevuto insulti da una persona non dico il nome perché non mi interessa neanche fargli pubblicità due settimane fa perché ho detto che il forex è un mercato decentralizzato e quella persona ha inteso decentralizzato come cripto parte che si potrebbe discutere molto sul fatto che il mercato delle cripto sia decentralizzato perché i big player sono quelli anche là però vabbè decentralizzato nel senso che non hai un centro di interscambio centrale come può essere qui fanno ad esempio l'esempio che tu puoi avere con il cmi ok quindi un exchange centrale come avviene sul futures ok il forex viene definito decentralizzato perché ci sono una serie di attori molto diversa che controllano l'attività di mercato ok e questa rete di attori è interconnessa fra di loro e è particolare perché non è simile quasi a qualsiasi altro mercato ok è molto diversa ad esempio se io vi parlo di quoting dei prezzi e di prezzo fra prendiamo due broker anzi prendiamone tre prendiamo fp markets ic markets e oanda più o meno li conoscete no sono tre broker belli grandi cfb no sotto news può capitare secondo voi che battono tre prezzi diversi qualche volta di tre pips differenti qualche volta di un pips qualche volta di due pips può capitare sì questa cosa avviene nel cfd ok questa cosa avviene nel cfd perché perché i broker sono delle isole a sé stanti e ora vi spiego proprio come funziona l'ecosistema cioè c'è un organo principale definito il tier one avete mai sentito logica tier one tier two tier three le logiche di priorità ok degli attori all'interno del cfd no all'interno de del dei mercati finanziari cfd in questo caso noi al contrario di questa struttura che è tipica dei futures no non abbiamo un exchange centrale non c'è un exchange centrale ma questa è la struttura e qualcuno diceva come è possibile che i reti il trader stanno all'esterno e all'interno dell'infrastruttura abbiamo le banche centrali ve lo spiego subito allora il network interbancario ok è un network che include all'interno le banche centrali e le banche principali ok quelle un po più grandi quelle più importanti e sono quelle che voi vedete indicate sul grafico come nere ok quindi central bank major bank major bank major bank queste qua ok la rete principale quella più importante è fatta da questi tutti gli ordini ok che passano dai membri devono poi essere devono poi passare ok per il network interbancario vedete queste frecce che interconnettono tutto l'ecosistema ok quindi vedetelo il network interbancario come un sistema ok necessario di validazione sono coloro ok che forniscono liquidità ai market participants ci siamo ragazzi mi date uno in chat come capisci se uno fa spread widening poi ci arriviamo vi spiego anche dove avviene quella cosa e in quale parte del processo avviene quella cosa la definizione che danno qua poi se vi volete andare a guardare il l'articolo no lo trovate non so chi sia questa persona ma ha fatto un ottimo articolo si chiama the forex guy ok e la definizione che danno qua è che per come funziona il core cioè la parte centrale del forex il network interbancario è la colla ok è la colla che tiene tutto insieme c'è tutta questa struttura che voi vedete viene tenuta dal network interbancario e va a sostituire un po questa struttura ok la struttura dell'exchange centrale andiamo avanti il tier 2 quello che chiedeva il ragazzo in chat i market maker ok ora fanno l'esempio no tu sei connesso ad internet con il tuo pc e per essere connesso a internet devi avere cosa l'internet service provider ok quindi tu vai a pagare all'internet service provider una fee ok e loro ti vanno a dare appunto la possibilità di accedere ad internet ad esempio che il forex è molto simile simile cioè per iniziare a fare dei trade hai bisogno di scriverti a un broker ok il broker significa che tu hai accesso al interbank network se questa è una domanda che mi è stata fatta vediamo se ci ha mai pensato qualcuno pure nel forex no mai pensato ragazzi di dire ma scusate me non posso mettere i miei trade a liquidità diretta non pago né spread né commissioni c'è qualche furbone che ci ha pensato qualcuno sono sicuro c'è qualcuno che ci ha pensato no dice che mi converrebbe se potessi accedere diretto potrei schippare la parte il punto qual è ragazzi il punto qual è è che tu per accedere a questo e ve lo vedete anche da qua no non c'è un collegamento diretto fra retail trader e major bank ci sono le parti del esien broker ok le parti del market maker le parti di un nuovo esien broker e di nuovo le parti del market maker ok a seconda poi di come funziona il il broker di riferimento ora vi spiegherò anche questa parte qua ok quindi in questo caso devo spiegare che avete bisogno di scrivervi con un broker specificatamente sul mercato del cfd ok per avere accesso a quello che l'interbank network andiamo avanti perfetto quindi broker fungono in questo caso da market makers ok sono queste cose tutto questo qua questa infrastruttura una volta che si collega alle major bank ok quindi alla parte dell'interbank network si collega successivamente ai vari market maker o broker ok dopo questa parte ok dopo la parte del market maker arriviamo poi successivamente interretale ma voglio soffermarmi un attimo su questa cosa perché perché in questo caso se il broker riesce a fillare il tuo ordine si è già quindi arriva ad edge free trade quindi non ha il rischio di perdita se non riesce fa da controparte ok quindi trada nella direzione opposta quindi fa un edge trade sul sistema interbancario questo spiega appunto che protegge il broker dal fare eventuali perdite ok andando avanti vi parla proprio di come sopravvive il broker il broker sopravvive ragazzi tramite due cose la prima è la commissione la seconda è lo spread quindi voi capite benissimo no che uno spread widening secondo voi fornirà un guadagno maggiore o inferiore al broker soprattutto in logiche di broker ok che fanno da controparte ai propri clienti ok il la logica di spread widening quindi la logica di liquidazione è estremamente profittevole e questa cosa io lo facevo anni fa parliamo di cinque sei anni fa avevo messo non vi parlo del broker di riferimento perché non voglio far cattiva pubblicità ma avevo messo un softwareino che non faceva nient'altro che registrare lo spread durante vari orari del giorno e avevo notato che c'erano dei picchi molto alti inusuali in determinati orari del pomeriggio che non erano di apertura sessione ok e queste cose ragazzi cioè queste anomalie nel momento in cui iniziato a capire l'infrastruttura iniziate anche a notarle ok questa qua è completamente differente dallo spread dallo spread che voi vedete magari alle 23 perché alle 23 ragazzi lo spread è alto su tutti i broker non è uno ok mi ha liquidato le 23 quello si alza tutti i broker ok parlando del cfd andando avanti comunque loro guadagnano appunto dallo spread quindi la differenza tra bid e ask e guadagnano dalle commissioni di apertura in questo caso vi spiega anche la differenza fra broker e cn broker market maker e vi fa capire proprio come in termini di logica no un broker può avere vari approcci ai mercati finanziari in termini di fornitura del servizio quindi può andare a decidere da fare da controparte e in quei casi tipicamente l'esecuzione è immediata però inizia ad esserci un conflitto di interesse perché perché se io broker x ok ho a cuore che tu vada a perdere in quel caso ok che cosa succede succede che nasce un conflitto di interesse fra il guadagno del broker guadagno del retail ok ora partendo dal presupposto che l'industria del cfd mi faccio ai dati avete visto che hanno obbligato a mettere a menzionare o in email o su lending le percentuali di trader perdenti ok quello che cosa vi fa pensare che l'aprire un sistema di brokeraggio market maker è profittevole o no alla base così è solamente facendo da controparte profittevole o no guardando la percentuale ovviamente non si parla dell'importo poi che vanno a vincere però per farvi capire di che industria parliamo ma è la stessa industria di quando parliamo delle prop firma cioè le prop firma pagano quando fai profit si pagano ma perché riescono ad essere sostenibili per il lungo termine riescono ad essere sostenibili per il lungo termine fanno delle cifre spaventose ragazzi spaventose perché ho avuto modo di conoscere una persona che ha partecipato all'analisi di sostenibilità e mi ha spiegato quali sono le analisi di sostenibilità che fanno e fidatevi che legge statistico che hanno ovvero le persone che arrivano successivamente a tenerselo il conto non che fanno magari fase 1 e fase 2 ma che arrivano a tenerselo sono una minoranza rispetto a coloro che provano la challenge come ovvio che sia ma questo è un dato che non è che ci voleva Einstein per capire la stessa logica del broker no e poi arriviamo ai piccoli speculatori non mi soffermo troppo ma i piccoli speculatori sono i retail insomma volevo farvi capire la differenza e spiegare perché parlo di mercato decentralizzato e lo ripeto perché è giusto chiamarlo mercato decentralizzato a differenza di quello che è un mercato centralizzato ok come può essere il futures in questo caso ora andiamo avanti un attimo e mi metto su questa parte qua perché voglio spiegarvi la parte di attori di mercato partecipanti questa parte è fondamentale ragazzi e non si tratta molto spesso questa parte io l'ho iniziato a spiegare quando ho trattato del cot perché se tu spieghi il cot è impossibile non parlare di come vengono suddivise le categorie di trader professional dalle categorie di trader piccolini quindi non reportable dalle categorie di trader scusate queste qua non reportable dalle categorie di trader che sono magari dealer o asset manager institutional ok ora se noi parliamo di tipologie di operatori ok dobbiamo in primis capire come leggere i dati ok quindi se noi partiamo da un presupposto che è quello di categorizzazione delle varie tipologie di operatori secondo voi ok la logica predittiva che poi non è predittiva ma è un vantaggio statistico di positioning quando noi guardiamo il cot di chi ci interessa dei dealer degli asset manager institutional dei fondi alleva o delle otterre portable chi andreste a guardare che è un dato poi asimmetrico rispetto a quello che ci interessa in realtà guardando magari rete il sentiment no ok ci interessa ragazzi sono due le metriche particolarmente ci interessa che possono essere utilizzate allora i dealer non più di tanto ok che tipicamente lavorano come edgers ma ci interessano asset manager institutional e fondi alleva in parte ok questi sono gli operatori che effettivamente hanno un interesse importante per un retail che analizza per comprendere successivamente dove sta andando la pressione di mercato ok dei partecipanti più cicciotti presenti e qui parliamo del report principale aperto a tutti il cot lo potete scaricare gratuitamente ok non è una cosa a pagamento arriva in ritardo ma è comunque un'informazione preziosa questo l'ha spiegato l'herry williams ho spiegato tutti i trader che vanno a lavorare positioning del di quanto sia preziosa questa informazione ok quando andiamo a parlare però di attori di mercato dobbiamo tenere in considerazione ragazzi che gli attori di mercato non hanno tutti le stesse logiche di esecuzione ovvero un retail se vuole andare buy o sell preme buy o sell e si trova in una posizione di mercato ok quando ci prova un investitore istituzionale o un fondo di investimento o anche i pension fund comunque operatori pesanti che cosa succede ragazzi qual è la problematica ok e qual è l'eventuale soluzione si parla di frazionamento dell'ordine si parla di problematiche di slippage si parla di problematiche di spostare troppo quindi non avere poi prezzi convenienti di esecuzione insomma ci sono tante logiche che vanno che vanno sviscerate no quindi se parliamo di attori di mercato e partecipanti dobbiamo sicuramente prendere in considerazione gli investitori individuali senza dubbio ma bisogna prendere questi sono quelli che tengono tutti in considerazione ma bisogna fare anche così e tenere in considerazione anche tutti gli altri operatori di mercato ovvero vestitori istituzionali che tipicamente hanno orizzonti temporali e logiche differenti dalle vostre poi parleremo anche di edge a mercato che possono essere presi in considerazione parliamo di hedge fund ok parliamo di fondi pensione guardate che così sembra errato sembra che questi sto elencando investitori individuali in realtà questo dovrebbe partire da attori di mercato e partecipanti sicuramente abbiamo investitori individuali e poi abbiamo anche corporations questa è la parte di attori e partecipanti e tutti coloro tutte le informazioni che noi ricaviamo ad esempio dal cot ci servono proprio per comprendere anche le logiche differenti che utilizzano ok bravissimo dennis ha detto position building quella è la logica che loro vanno a utilizzare allo stesso modo che cosa succede secondo voi il cot ok quando è entrato in vigore come regola ha fatto piacere o gli ha dato leggermente fastidio agli operatori più grandi cioè il cot che cos'è il cot è un rilascio ok di dire ok io mi sto posizionando su quest asset te lo dico in ritardo ma comunque te l'ho detto ok quindi è una sorta di trasparenza degli operatori più pesanti al mercato verso gli operatori un po più piccolini perché perché quando tu hai dei capitali enormi è lo stesso discorso di sedersi a un tavolo da poker e tu hai 5000 euro e ti siedi con quattro persone che hanno un milione sei bravissimo magari sei divertente ma la matematica non sta dalla tua parte ok la matematica non sta assolutamente dalla tua parte il cot report è un'informazione di posizionamento e trasparenza infatti per gli operatori più grandi infatti se vedete poi si tratta di posizionamenti non reportable che sono un po tutti mischiati ok infatti voi vedete molto spesso che il mercato va su e non reportable va sell mercato va giù non reportable va buy che è solitamente il contrario comunque al di là di questo ora abbiamo trattato la parte di partecipanti dobbiamo trattare la parte di regolamentazione per la parte di regolamentazione ragazzi io ne ho trattato anche nelle scorse live vi ho fatto leggere un'ora di documento vi ho fatto vedere tutte le tipologie di manipolazione esistente e qualcuno diceva beh questa saltiamo le realtà è una parte importantissima perché vi serve per capire come i mercati sono stati sono ci sono anche evoluti e sono stati resi un ambiente professionale nel tempo nel momento in cui non c'erano controlli di cancellazione di grandi importi di ordini limit ok nel momento in cui non c'erano controlli su ad esempio le sale ancora non ci sono ancora controlli sulle sale pump and dump cioè ci sono organi indipendenti che fanno auditing ma ancora esistono al giorno d'oggi ok oppure fake news che creano dei danni enormi al mercato ragazzi se l'avete visto con l'intelligenza artificiale scrivete uno in chat se l'avete visto che due settimane fa forse è uscita una news di un attacco al pentagono è collassato l'S&P 500 è collassato l'S&P 500 pensate il danno cioè voi pensate il danno di questa cosa di una persona che magari sta pesantissimo su S&P 500 short o non prendetela come idea che lo fate veramente voi usa l'intelligenza artificiale per far parlare magari Biden che vuole entrare in una guerra nucleare ok al giorno d'oggi soprattutto gli esperti stanno parlando proprio di questa problematica sull'intelligenza artificiale ovvero il deep fake ovvero poter far dire qualsiasi cosa anche a capi di stato e inizia a diventare pericoloso ragazzi perché prima c'era il fact check quindi la fake news quindi valla basta adesso prima di capire se un video è falso con tutto quello che fanno ne passa di tempo il mercato l'ha già scontata con la news ok quindi ci sarà necessità di nuove regolamentazioni per ora le regolamentazioni ragazzi servono per proteggere gli investitori per mantenere i mercati fair ok ed efficienti e per promuovere la stabilità finanziaria esempio di attore di manipolazione che c'è stata in termini order flow spoofing che nome vi viene voi immaginate ragazzi questo per farvi capire io sono estremamente appassionato della storia dei mercati finanziari no perché è incredibile pensare che sono i trader stessi che insegnano agli organi regolamentatori come spottare gli altri operatori che fanno manipolazione cioè è un qualcosa di assurdo no se voi ci pensate è come dire nel ghetto ok sono i criminali che vanno dalla polizia e gli dicono come acciuffare gli altri criminali ok parlo ovviamente di navinder sarau e giulio ha fatto un'osservazione perfetta come gli hacker ok che cosa succede che gli hacker quelli forti forti si dice gli hacker mediocre barra bravi vengono arrestati quelli forti forti vengono assunti ok perché perché arrivi a certi livelli dove determinati tipi di manipolazione sono talmente tecnici che o sei un operatore che i mercati li vive tutti i giorni o gli antiregolamentatori non le capiscono lo spoofing è stato individuato così ok il layering varie tipologie di manipolazione sono stati individuate così con la copartecipazione infatti sarau perché viene visto come un eroe perché si è seduta al tavolo degli scacchi dei grandi e li ha battuti al loro gioco si è alzato che aveva vinto ha patteggiato ha detto perfetto andrea ci ha fatto un video su questa cosa è bellissimo ok questa è la parte di regolamentazione poi c'è la parte di regolamentazione dei brokerage quindi asic sci sec insomma e tutte le entità che si assicurano asic addirittura un reparto di anti anti market manipulation ovvero controlla che i broker abbiano un comportamento etico verso il cliente quindi tutela il cliente quindi non è un come posso dire una regolamentazione di mercato ma una regolamentazione di infrastruttura ora avendo parlato della logica degli operatori voglio fare dei piccoli appunti su qual è la funzione di questi operatori quindi l'investitore individuale sapete benissimo che è una persona che investe per fini personali ok quindi sta gestendo i propri portafogli o nel caso del del consulenti finanziari autorizzati quindi abilitati a far quello dei clienti oppure vanno a lavorare magari su conti personali e dei clienti se sono autorizzati ma parliamo di investitori sotto una certa soglia ok poi parliamo invece di investitori istituzionali che vanno anche a gestire capitali importanti per altre persone ok in questo caso rientrano anche gli hedge fund perché i fondi di investimento sono a tutti gli effetti operatori pesanti sui mercati hanno una capitalizzazione notevole e poi parliamo di volumi quindi di approccio ai mercati finanziari e size che sono importanti quindi capaci di muoverlo un mercato finanziario insieme a parlare di grandi size non di operatori personali ok investitori individuali per quanto bravi non arrivano a quelle cifre ok e parliamo invece dei market maker che sono entità che forniscono liquidità al mercato qual è l'obiettivo di fornire liquidità al mercato è di renderlo efficiente ok di abbassare il bid ask spread e di andare anche a ribilanciare potenziali imbalancing supply demand i mercati che voi vedete come illiquidi non sono belli ok non sono facili da tradare un mercato illiquido per farvi un esempio può essere un mercato quale l'arte ok perché l'arte è un mercato illiquido perché compri magari ti si apprezza l'opera ti viene fatta una stima ma non c'è nessuno che vende e allora in quel caso diventa difficile lo scambio ok e poi abbiamo i broker i broker ovviamente fungono da intermediari quindi vi permettono l'accesso sulle sui mercati finanziari da parte del del retail ok e alla fine ovviamente sui mercati regolamentati abbiamo l'exchange quindi come possiamo parlare del cmi ok o del nise ok o del london stock exchange insomma potremmo andare avanti molto su questo l'ultima cosa che voglio trattare stasera ragazzi invece è l'approccio ai mercati finanziari questo è bello differente cioè l'approccio ai mercati finanziari ragazzi tipicamente per ciò che si trova su youtube almeno su canali mainstream scalfisce solamente la superficie perché scalfisce scalfisce solamente la superficie perché andiamo a parlare ragazzi tipicamente quello che voi trovate su canali tradizionali ma proprio parliamo di formazione youtube tipicamente rientra in queste due categorie la technical analysis e fundamental analysis e quindi da queste due parti poi si creano le sotto categorie e quindi abbiamo la price action quindi l'azione dei prezzi e poi abbiamo l'osservazione e interpretazione dei volumi perché vi dico questo perché a primo impatto uno può dire l'analisi volumetrica non fa parte dell'analisi tecnica però mi sono andato a documentare anche sul cmt ad esempio e il cmt classifica l'analisi dell'order flow come un'analisi che comunque è tecnica cioè l'approccio di analisi tecnica è tutto quello che tu estrapoli dal grafico l'approccio di analisi fondamentale invece è quello che tu estrapoli dalle informazioni di rilasci di news o economiche ok e quindi anche all'interno dell'analisi fondamentale rientra quello che è l'approccio definito a driver di eventi quindi event driver approach quindi anche portafogli dedicati interamente a situazioni particolari come il covid quindi farsi un portafoglio azionario su indici scusate che voglia prendere una direzionalità precisa oppure prendere la situazione dell'incendio in nostra idea che c'è stato e creare un position building su quella logica su un evento specifico un evento eccezionale ok oppure quello che è successo con svb sono tutti approcci che vengono sostenuti dall'analisi fondamentale quindi sono approcci che beh che utilizzano come driver eventi specifici ok alla dalla parte di altra cosa che può essere impiegata nell'analisi fondamentale è la macroanalisi ovvero utilizzo l'analisi attuale economica quindi vado a vedere la situazione magari dei tassi di interesse ci includo all'interno la geopolitica ci includo i rilasci appunto del cot report che vanno a coadiuvare una situazione di analisi fondamentale ci includo una situazione specifica di economia di una determinata currency allora in quel caso costruisco la mia analisi non è un evento specifico ma è un'analisi completa fondamentale e vado a prendere una direzionalità anche magari quella utilizzando la sentiment usando queste informazioni ok queste qua sono tipicamente le cose che si trovano su canali mainstream ma esistono anche altri approcci ai mercati finanziari ok esistono approcci che utilizzano edge che vengono definiti quantitativi ok gli approcci quantitativi ragazzi sono tipicamente approcci di modelli matematici di modelli statistici spiegare che cosa vuol dire analisi quantitativa no se parliamo di analisi quantitativa parliamo di approccio appunto di modelli matematici di analisi statistica di analisi delle serie storiche passate per sviluppare strategie ok tipicamente c'è un ampio impiego di algoritmi in questo caso di ricerca di pattern ricorrenti di ricerca correlazioni tra i vari data point che vengono utilizzate e di ricerca anche delle anomalie ok l'analisi per farvi esempi di approcci di analisi quantitativa includono in questo caso l'arbitraggio statistico o il trading algoritmico ok oppure parliamo di andare a si dice exploit marketing efficiencies cioè andare a prendere beneficio di inefficienze di mercato a breve termine che ovviamente vengono colmate di questo ne ha parlato molto jim simmons conoscete jim simmons jim simmons è il punto di riferimento mondiale per un approccio quantitativo cioè a livello storico voi pensate a vari tipi di fondi che vengono annientati da una persona che ha un approccio puramente che tipologia di approccio è puramente matematico un approccio matematico ok quindi quello che ha fatto jim simmons al contrario di altri operatori invece di prendere persone estremamente preparate sul lato economico speculativo ha preso persone estremamente preparate in matematica statistica e fisica con quella base ha costruito i suoi modelli ok i suoi modelli a livello di fondo di investimento hanno battuto tutti esattamente ok e poi abbiamo invece la parte di vantaggio tecnologico questo qua ma perché non si trovano poi queste cose ragazzi sul canale mi stream perché queste sono fuori portata che tipologia di trading vi viene in mente quando parlo di vantaggio tecnologico che necessita di un'infrastruttura pesante di capitali pesanti proprio perché quell'approccio tecnologico ragazzi necessita cose di questo tipo bravissimi parliamo dell'high frequency trading ok o parliamo dell'arbitraggio su bassissimi orizzonti temporali stavo leggendo un research paper l'altro giorno che parlava di come il trading attualmente il trading ad alta frequenza viene quasi da ridere quando si parla di un secondo di latenza in realtà si parla di millisecondi se non di microsecondi ok e questo approccio ragazzi l'approccio hft no a me viene anche da ridere quando sento qualche retail che dice sì ma io ho un approccio hft lavoro su non lo puoi neanche fare con metatrader ok cioè parliamo di una visione completamente diversa dei mercati finanziari c'è un libro a riguardo che si chiama flash boys te lo consiglio se non lo non l'ho letto vladimir anzi approfitto per per leggerlo ok questi sono i vari approcci che trovate sui mercati finanziari che esistono sui mercati finanziari ragazzi e con questa live appunto ci tenevo ad andare a delineare e spiegare per filo e per segno quella che è l'infrastruttura dei mercati finanziari perché nella prossima live scendiamo nello specifico delle meccaniche di mercato dell'order flow ok quindi andiamo sulla dinamica e sulle logiche dei movimenti e anche sulla parte di filling degli ordini spero questa parte più tecnica vi stia piacendo io so ovviamente che è più facile eseguire la parte di strategie ma la parte di come si muove il mercato la parte di come è strutturato il mercato sul quale voi tradate secondo me è ancora più importante per sapere esattamente quando voi premete buy or sell cosa succede e soprattutto quali sono gli operatori con i quali vi scontrate quotidianamente ragazzi come sempre vi ringrazio per essere presenti di venerdì nelle live gratuite io vi auguro buona serata buon weekend e buon trading per la settimana prossima ciao ragazzi